Tre autobus in più per le corse maggiormente affollate, sicurezza alle fermate per l'incolumità degli studenti con la presenza di vigilanza privata. Così si aprirà l'anno scolastico sul fronte dei trasporti grazie all'intesa sottoscritta da Copit e Parlamento regionale degli studenti. Siamo riusciti insieme a tanti altri studenti a portare avanti questa battaglia in questi mesi grazie anche al sostegno di Copit che vogliamo ringraziare e arrivando alcuni risultati. Naturalmente non tutti i problemi si risolvano magicamente ma credo che faremo tanti passi in avanti in questo inizio di anno scolastico e naturalmente saremo lì a settembre a controllare, a vigilare che tutto il servizio sia efficiente. Dovrebbero quindi essere messi in archivio i disagi registrati negli anni passati quando nelle settimane di inizio scuola alla stazione ferroviaria e in piazza San Francesco si verificarono veri e propri assalti agli autobus da parte dei ragazzi. L'accordo, frutto di un percorso durato alcuni mesi, prevede corse extra ed interventi sulla sicurezza per un periodo di 15 giorni, ovvero dall'apertura della scuola il 15 settembre al 30 dello stesso mese, quando dovrebbero entrare in vigore gli orari definitivi negli istituti della provincia. Purtroppo quando i ragazzi salgono sull'autobus ci sono molti problemi di pericolo e quindi grazie al personale Copit e a un servizio di vigilanza privata messo in atto dal Copit potremmo avere sicurezza per i nostri coetanei, sicurezza per gli studenti che vanno a scuola non per andare a divertirsi ma soprattutto per studiare, quindi è cosa buona e giusta. Noi rappresentiamo gli studenti e rappresentare gli studenti non significa solamente saltare un giorno di scuola per andare ad una riunione ma significa dar voce a tutte le problematiche e a tutte le difficoltà che gli studenti corrono tutti i giorni perché è importante appunto che il diritto allo studio di ogni studente sia applicato. Ovviamente noi non ci fermiamo, continueremo a vigilare la situazione e saremo attenti e appunto disponibili a tutte le richieste degli studenti.